Ciao amici e Rebotech a tutti! Questa è una comparativa diversa dal solito. Ringraziamo Realme Italia per averci inviato entrambi i prodotti. Realme GT2 di cui trovate la recensione sul canale. Realme GT2 Pro che ci è arrivato da pochi giorni. Questa non è la solita comparativa, ha solo scheda tecnica, solo numeri, solo dati. Ma è una comparativa un po' sul campo. Io li chiamo i gemelli diversi perché sembrano uguali ma in realtà non lo sono. Guardate il modulo delle fotocamere, sono disposti in un altro modo ed è anche differente la fotocamera tra i due. Anche se il sensore principale è lo stesso per entrambi, cioè i Sony IMX 766. Qua però in più abbiamo una grandangolare da 50 megapixel, un po' come abbiamo visto sul Oppo Find X5 Pro mentre qua abbiamo una grandangolare più scarsa. Poi vedremo come si comportano nelle foto entrambi nelle stesse condizioni, con le stesse impostazioni. Punta e scatta ma non solo. Adesso li accendiamo e vediamo intanto qualcosa sulle prestazioni, qualcosa sull'apertura delle app e vediamo come si comportano. Abbiamo tutti e due con la batteria carica al 100%, con le medesime impostazioni, luminosità automatica, impostazioni home nello stesso modo. Tutto uguale, senza risparmio energetico, le andiamo ad accendere contemporaneamente. Ecco innanzitutto la scritta qui sul Realme GT2 è più tenue. all'avvio e il GT2 Pro è più veloce nell'avvio. Abbiamo schiacciato esattamente nello stesso istante. Mettiamo le password, entrambi con luminosità automatica. La attiviamo subito. Ok, adesso abbiamo un sacco di notifiche che usciranno su entrambi i dispositivi. Siamo al 100% qui e il 100% lì. Stessa home, stesse app che andiamo comunque a chiudere tutte in background. E partiamo subito dall'apertura delle app. Dopo invece andremo a vedere qualche benchmark, qualche numero un pochino più specifico, senza ovviamente andare a guardare il pelo nell'uovo, ma per avere un'idea generale. Vai con Facebook. Più veloce GT2 ad aprire Facebook. Entrambi hanno 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Instagram. Un pelo più veloce GT2 Pro. Meteoradar. Quasi alla pari. YouTube. Direi quasi alla pari. Fotocamera. Alla pari. Play Store. Impostazioni. Più veloce GT2 Pro. Anche le app, vedete, abbiamo clonato, sono state messe esattamente nello stesso posto. Abbiamo poi i test Antutu su entrambi, scaricati, e li andiamo ad avviare. Allora, intanto andiamo a vedere le caratteristiche di sistema. GT2, GT2 Pro. Temperatura in questo momento 43,9, qua invece 39. Già questo dice che lo Snapdragon 8 Gen 1 scalda meno. La batteria ha una temperatura di 32,2 gradi, mentre qui abbiamo 31,6 in questo momento. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche dettagliate di ognuno. Processore, abbiamo visto, Snapdragon 888, Adreno 660, mentre qua abbiamo una Adreno 730. Qui abbiamo una risoluzione maggiore 2K, perché abbiamo la possibilità anche di selezionare la risoluzione automatica. LPDDR5, il tipo di RAM per entrambi. Qua le caratteristiche dettagliate di tutti i vari core che compongono i shock, con tutti i dettagli. La batteria, 5000, 5000, entrambi. Vediamo qual è la batteria che si consuma prima, delle due, anche tenendolo in stand-by, facendo un drain test su entrambi. Usciamo, facciamo uno stress test della temperatura, vediamo quale dei due lo completa. Qua segna 4880, qua 5000, facciamo il test da 15 minuti e ci vediamo alla fine per vedere i risultati che poi registreremo con entrambi. Sono entrambi al 100%, ancora e diamo il via. Ci vediamo dopo. Si parte da una temperatura di 30,8 gradi e qui invece di 31,7. Lasciamo completare il test, ci ricolleghiamo una volta che è finito. Allora il test è andato in un modo un po' particolare perché qua siamo riusciti a concluderlo, vedete i dati e i grafici, nei 15 minuti. Qui invece non siamo riusciti a concludere per eccessiva temperatura. Quindi abbiamo avuto un eccessivo rialzo della temperatura, quasi 50 gradi, che ci ha impedito di concludere il test della batteria. Batteria che in questo caso con il Realme GT2 è arrivata a una temperatura di 46-47 gradi e per un po' erano pari come misure. Poi qui invece è andata alzandosi e non è riuscita a concludere il test. Quindi lo Snapdragon 8 Gen 1 o comunque il sistema in generale scalda di più su questo GT2 Pro che su questo GT2 Standard almeno. Questo ha i test che abbiamo fatto e che dimostrano che questo Snapdragon 888 con questa camera di vapore dedicata, in effetti questo device è anche più spesso di questo, quindi tra l'altro il display è appoggiato sulla scocca mentre qua è incastrato nella scocca. C'è meno spazio per dissipare, questo potrebbe essere uno dei motivi. Sta di fatto che con questi test abbiamo avuto questi risultati. Proviamo la velocità di sblocco con il viso. Vedete sono veloci entrambi, ancora doppio tap e sblocco. Sembra più veloce in generale il Realme GT2 come sblocco del viso. È veloce anche il GT2 Pro ma qui abbiamo una reattività maggiore. Proviamo lo sblocco con l'impronta digitale che qua è posizionato più in alto e qua più in basso. Vedete clicco nello stesso istante. Siamo lì come reattività di sblocco con l'impronta. È molto veloce su entrambi. Molto bene. Adesso avviamo velocemente un test single core e multi core con Geekbench 5. Accettiamo. Qua vi fa vedere le caratteristiche tecniche. Facciamo un test veloce per vedere come si colloca. È anche una sorta di riferimento per quanto riguarda il punteggio. Poi avvieremo il test 3D Antutu per vedere innanzitutto se vengono conclusi. Perché qua avevamo un fornetto microonde ancora più caldo rispetto al GT2 standard. È molto strano che questo Realme GT2 Pro abbia questa reazione sotto stress. E un po' mi lascia perplesso. Perché nell'utilizzo quotidiano vi dico che in stand by e nell'utilizzo normale, nell'apertura delle app, per quanto riguarda la fotocamera, per quanto riguarda le app anche in background, e l'utilizzo anche intenso, io non ho avuto grossissimi problemi di surriscaldamento. Vi dico la verità. Qua ovviamente abbiamo un processore che spinge di più, quindi vedete che è un pochino più veloce nello svolgere il test. E ci aggiorniamo quando abbiamo concluso. Ecco i risultati del test single core e multi core GT2 e GT2 Pro. 1137 GT2 standard, 1258 GT2 Pro in single core. In multi core abbiamo 3353 per GT2 e 3461 per il GT2 Pro, ma era inevitabile che fosse così, perché comunque abbiamo un boost in più su questo device. Tutto il resto abbiamo delle caratteristiche molto molto simili e vedete ci sono anche altri punteggi, anche se bisogna dire che la differenza non è certo abissale. Andiamo nei dettagli, in cui entrambi si posizionano sopra a un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, non c'è ancora il ranking con l'S22 Ultra, ma sono comunque ottimi risultati. Se parliamo solo di numeri nudi e crudi, anche qui il primo in classifica dopo di noi è il Galaxy S21 Ultra 5G. Adesso avviamo AnTuTu. Per quanto riguarda il test vediamo anche quanto scende la batteria. Qua siamo attualmente all'88%, mentre qua siamo ancora al 91%. Per il momento sta scendendo più velocemente su GT2 Pro rispetto al GT2 standard. Iniziamo il test grafico e ci vediamo alla conclusione. Sperando che entrambi riescano a concludere con successo il test. Abbiamo già visto che GT2 Pro ha un piccolo vantaggio in termini di velocità e soprattutto di grafica, perché senz'altro la GPU spinge in modo più significativo rispetto a questa, anche se su entrambi stiamo parlando di hardware di fascia alta. Ci vediamo alla fine del test. Ecco, abbiamo concluso il test AnTuTu 3D con questi punteggi. GT2 820.328 punti, meglio dell'83% degli utilizzatori generali o comunque del ranking generale. Qua invece siamo al meglio del 91% con 951.985 con i punteggi parziali che sono qui sotto. Qua c'è una bella differenza, negli altri punteggi invece c'è poca differenza. Se andiamo a vedere i dettagli, c'è anche la temperatura, vedete? Qua 36 e 44.8, qua 35 e 43.5 alla fine. Quindi in ogni caso ho avuto la meglio di pochissimo il GT2 normale, il GT2 standard, però abbiamo avuto un incremento di calo batteria del 6%, mentre qua abbiamo avuto un range di 9 gradi in più, quindi pochissimo perché siamo praticamente lì, e 5% di batteria consumata. Poi ci sono i vari dettagli del display e tutti gli altri test che si possono fare ma che noi non facciamo per il momento. Abbiamo fatto questi test per farvi vedere più o meno quali sono le prestazioni, abbiamo fatto l'apertura delle app e adesso vi faccio vedere le foto fatte nelle medesime condizioni dai due dispositivi, al buio, di giorno, per vedere le differenze fra i due, ma metteremo un terzo incomodo che è lui, come termine di paragone. Voi direte che è strano, non è un top di gamma, non c'entra niente, invece Nord 2 ci ha sorpreso perché come termine di paragone c'entra e come in un confronto fotografico nel quale ci sta anche lui tranquillamente alla grande, così potrete vedere le differenze fra questo, questo e il Nord 2. che si può fare le differenze fra i due, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.